Informazione per i viaggiatori a destinazione di Atgoldau, Zugo, Zurigo, stazione centrale, Leono City, in partenza alle ore 17 e 13. E' completo. I viaggiatori senza posto riservato sono pregati di utilizzare l'Intercity per Atgoldau, Zurigo, stazione centrale, con partenza alle ore 17 e 10 dal binario 1. Informazione per i viaggiatori a destinazione di Atgoldau, Zug, Zürich, Hauptbahnhof, der Eurocity, Abfahrt um 17.13 Uhr, ist ausgebucht. Reisende ohne Platzreservation, benützen bitte den Intercity nach Atgoldau, Zürich, Hauptbahnhof, Abfahrt um 17.10 Uhr, ab Gleis 1. Grazie.